Lo stadio di Maranello, lo stadio, tutti i tifosi della Ferrari, i tifosi della Polchissima, la fase della tribuna! ULTRAS! Stasera estremitoso! Tribuna! ULTRAS! Allora, alla prossima! Come un gol! Deve essere come un gol! Posizione d'attacco! La gamba avanti! Quando fa così, non celebra nessuno! Allora, alla prossima! 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 Lorenzo Tassinari!